Perché alcuni puri devoti, Prabhupada compreso, hanno scritto libri sui ras spirituali e alcuni maestri li ritengono argomenti di cui non parlare? Perché alcuni puri devoti o maestri spirituali hanno scritto, Prabhupada ha scritto anche sui tipi più alti, e altre persone dicono che non parlavo di questo perché sono troppo elevati. No, altre persone, altri maestri spirituali. Maestri dice che non parlavo di questo perché non posso commentare con altri. E dice, Maharaji dice che non posso entrare nella testa degli altri. Non lo so. Sono le sue realizzazioni individuali. Ognuno ha le sue realizzazioni individuali. La domanda l'ho scritta io, no? Ah, Prabhupada did write this question. No, perché già l'ho chiesto a altri devoti, però voglio sentire anche il parere dei... E questa questione l'ho chiesto a altri Vaishnavas, ma ora voglio sentire... Perché dicono che al principio questo tipo può fare confusione. Non c'è confusione. Perché qualcuno gli dice, no, perché queste cose spiegate agli inizi possono fare confusione. Maharaji risponde, non c'è confusione. Dice, la confusione viene quando uno non ha desiderio intenso di capire queste cose. Dice, la confusione viene quando uno non ha desiderio intenso di capire queste cose. Dice, speak about Rasa. Dice, speak about the Rasa. Dice, maybe somebody can misunderstand. Rasa, without Rasa there is useless, life is useless. Perché senza Rasa la vita diventa inutile. Dice, useless, wasting your time. Dice, vivere diventa una perdita di tempo. Do other business, wasting your time. Fai altre cose, quindi perdi del tempo. Dice, speak about the Rasa between Rade Krishna. Dice, yes. Dice, understand. Dice, if you don't go, your lust will never finish. Dice, se non vai a quel livello, la tua vita praticamente non è colpente. No, la tua russuria, la tua russuria non va mai inutile. Dice, your lust will never finish without you not meditate in their past time. Se non mediti in questi passatempi, la russuria non se ne va. Dice, if you connect with spiritually with Krishna, the moment you talk about Krishna, nothing is disturbing. Se invece parli di Krishna, nel momento, se sei connesso con quel livello, nel momento in cui parli di Krishna, niente ti disturba. Dice, when you talk about Rada and Krishna, more far they go, 100 feet far. Dice, addirittura nel momento in cui parli di Rada e Krishna, queste cose si allontanano. ma non dalla bocca di gente porcacciona, ma da qualcuno che sia un Bhakta Rasika. Qual è il significato? Uno che è fisso in quel sentimento, che non si muove da così, che non va qua e là, margina. E allora uno così vi può mostrare come anche te fissarti. Stabilizzarti. No, mi ricordo di questo tema. Mi ricordo, nel principio, quando conoscivo i devoti, hanno detto che era meglio evitare, perché puoi imitare, in modo materiale, questo tipo di passatempi. Bravo ha sentito che si ricorda i primi tempi che frequentava i devoti, molti gli dicevano, molti gli dicevano, meglio lasciar perdere di parlare di queste cose, sennò dopo diventi un imitatore. se te sei stato già un mese, mi sembra abbia detto così. Se te vedi nel mio tempio, parliamo solo di questo. prendi i miei libri e solo di quello parliamo. e vedi se la mente, cioè se la mente si corrompe insomma. Ecco. Where you listen, from where you go. Il punto è da chi ascolti. Te vai nel livello di coloro che ascolti. Se tu sei basato, se hai le basi solide, nessuno ti può distruggere. Ora vi dico una cosa. Qual è la connessione del bambino nella pancia della madre? Dell'ombelico. Dell'ombelico. Ah, col bambino, è una connessione dall'ombelico all'ombelico? Eh? Le madri lo sanno, è una connessione da ombelico a ombelico. Dice, questa è la connessione, il cordone umbilicale che abbiamo con Radha, con Suamini. che è una connessione, il cordone umbilicale. Cosa fanno ai bambini? Gli staccano il cordone umbilicale. Dalla madre. Dalla madre. Giusto o sbagliato? Eh? Cosa fanno ai bambini? Gli staccano il cordone umbilicale. Giusto o sbagliato? O capito? Dalla madre. Cosa fanno ai bambini? Giusto? Dalla madre. Si fanno ai bambini? Dalla madre. Dove ho vette a fare il cordone, ci dico. Dalla madre. Un bambino che aveva connessione all'obelico, chiamato. Quindi loro tagliano l'ombelico perché la loro connessione, tagliano il cordone ombelicale perché la loro connessione. E la madre può capirlo. E allora il bambino non sa dov'è il suo cibo. La madre può portare il cuore del bambino e i piedi. Puoi portare il cuore della madre. E praticamente la mamma mette il seno nella bocca del bambino in modo che il bambino capisca che da lì gli arriva il cibo. E allora il bambino cresce. E comincia a capire da dove viene il cibo. E il bambino tocca il seno della mamma e prende il cibo dal seno. E lei è molto felice e cresce. E quando arriva il papà che vuole prendere il bambino questo si mette a piangere. e che il bambino riconosce solamente la mamma e il seno della mamma. Quindi se voi volete sviluppare la vostra coscienza spirituale. Chi è che vi dà da mangiare? Che vi alimenta? Perché la sua forma viene. E la sua mamma ti dà la forma. Perché è lei che vi dà la forma e la mamma ti dà la forma. perché è una connessione del cordone ombelicale. e che conoscerai solo il seno della mamma. E praticamente che succede che conoscerai solo il seno della mamma. Se sei un bambino. E una persona può vedere più. Un momentino. Un'altra persona può vedere più. Quindi in modo che più persone possano vedere insieme. Una persona in più può vedere. Una persona in più può vedere. Una persona in più. L'amante. L'amante. Gli unici che sono qualificati per questo. Sono le Kinkari. E Krishna. Dice ora io vi ho detto la cosa più alta. Ora leggete quello che vi pare. E vedete se la vostra mente salta. E vedete se la vostra mente. Salta qua e là. E non sapete dove andare. E sapete dove siamo. E sapete dove siamo. Volete crescere nella vostra vita spirituale per diventare bambini. Leggete la città nascita 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 nascita. Chi è pazzo, folle e ignorante può capire. Bambini ignoranti. Questa è la coscienza di Dio. È facile da capire. Se sei qualificato in realtà non sei qualificato. Se sei qualificato in realtà non sei qualificato. Se non sei pazzo e ignorante non capisco. Se non sei pazzo e ignorante. Se non sei pazzo e ignorante. Quindi se non sei un bambino scemo e ignorante. Che fai? Ha 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 ha. Questa qualifica è importante Questa squalifica è importante He becomes tired So he can't translate I know I know after some time He becomes tired You see? Posso chiedere una cosa a Maraghi? So the sage of the Ramachandra's forest They became gopi So They are gopis They are 20.000 years 20.000 years 10.000 years They were rishis Maharsis They practiced To get the association As a lover with Rama Then Ramsey Is not possible now And I will appear In Krishna As a Krishna E allora Rama gli disse Non è possibile adesso Devo prima apparire come Krishna Then I will give this one E allora quando appaio come Krishna Allora vi do questa misericordia So they come In Maharaja Quindi loro sono entrati nel Maharaja When they are playing Krishna flute in night time They all come to night time Quando sentono Krishna che la notte sono al flauto Loro arrivano They are gopis Loro sono gopis They are sakhi Loro sono sakhi Ma le mangiari sono differenti Ma le mangiari sono differenti Loro sono ignoranti e pazzi Questa è la loro qualifica Però loro hanno del desiderio intenso per questo Non sanno tante cose E se sanno qualcosa Se lo vogliono dimenticare Perché loro vogliono Per prendere questo sapore Di questo gusto Si capisce Ammaragi volevo chiedere Ma qui tipo a me Solo si è parlato sempre di Krishna Quindi in questi anni La mente si focalizza sempre In modo illusorio su Krishna Infatti noi non abbiamo mai sentito parlare Di questo tipo di rasa E quindi adesso uno si trova spiazzato Quindi Non so se mi riesco a spiegare Scusate Adesso io che per tradurre Ci vuole la domanda Nel senso che È molto bello Però io ad esempio Faccio difficoltà Perché sempre Krishna 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 But we're saying I have big difficulty Because in those years They did speak to me All about Krishna 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 Perché? Perché? Because I was not conscious with my soul Perché non ero conscio della mia anima Perché Krishna può sviluppare questa mia coscienza E lui mi ha mandato il maestro spirituolo Però non ci siamo comportati come il bambino Il vitellino che va lì a toccare il seno della montetta Non volevamo bere il latte Non volevamo bere il latte Eravamo soddisfatti dalla conoscenza Non volevamo bere il latte Non but dimenticate Si capisce? Si capisce? Common capacity Cape City ýur Bhajan How tasteful became your Bhajan Quindi, dipende dala capacità che uno sviluppa con Bhajan E dal quanto gustoso diventa Bhajan Non vi dimenticate mai il giapa, non vi dimenticate mai di cantare il santo nome. Santo nome, holy name. E non lo dico per me, lo dico per tutti. Maragio dice, io chiedo questa benedizione quando arriverà questo momento per me. Ora il bene è lì. Tu devi andare. Questo è così bello. Con una cosa del genere nessuno si stanca. Questo c'è una memoria che puoi registrare una settimana di sì. Ma lui dice, my recorder can record for one week. Dovrebbe registrare direttamente nel cuore. Dovrebbe registrare direttamente nel cuore. Ah, oh, my dear. Fai con le foto. È felice. No, 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 no. No, 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 no.